Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smarti, in studio Cesare Martignone. In FIPILI, in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci per viabilità esterna congestionata. Sul raccordo sia una Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. In occasione della Notte Cubana a Empoli, evento che fa parte dell'estate empolese, importanti variazioni quest'oggi alla sosta e alla viabilità in centro città. Per interventi di RFI che riguardano il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme, circolazione sospesa tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!